Matteo Messina Denaro avrebbe utilizzato negli anni le generalità di diversi fiancheggiatori. Lo sospettano gli inquirenti che nel covo di Vicolo San Vito a Campobello di Mazzara, tra le carte del capo mafia, hanno trovato documenti di identità contraffatti con i nomi e i dati di persone realmente esistenti. Non è ancora chiaro se i documenti siano stati falsificati dallo stesso capo mafia o se qualcuno gliele abbia forniti precompilati e lui abbia soltanto apposto la sua foto. Diverse peraltro sono le fototessera trovate al padrino di Castelvetrano. Insomma non solo Andrea Bonafede avrebbe ceduto la propria identità alla ex Primula Rossa di Cosa Nostra, adesso detenuto nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. Prima di assumere l'identità del geometra 59enne finito anche lui in carcere nei giorni scorsi, identità utilizzata a partire almeno dal 2020 quando fu operato di cancro all'ospedale di Mazzara del Valle e utilizzò il codice fiscale e la carta d'identità del suo complice, il boss avrebbe dunque fatto uso dei documenti di altre persone. E con le generalità di altri rifavoreggiatore avrebbe viaggiato e concluso affari, piste che gli inquirenti che stanno tentando di andare a ritroso per ricostruire la latitanza del capo mafia ora approfondiranno. L'arresto di Matteo Messina Denaro è stato anche tra i temi affrontati dal presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca durante la sua relazione all'apertura dell'anno giudiziario, un arresto che per il magistrato assesta un colpo decisivo alla componente stragista della mafia e apre scenari inesplorati. Il testo della relazione è stato pubblicato nel sito web della Corte. Come è già accaduto con altre figure del vertice mafioso, la fine della latitanza del boss costituisce senza dubbio, secondo Frasca, un momento di grande importanza sia perché probabilmente completa la lunga e difficile operazione di smantellamento della componente stragista dell'organizzazione, sia perché apre prospettive investigative potenzialmente straordinarie che l'azione corale delle istituzioni potrà valorizzare in direzione di ambiti diversi da quelli strettamente connessi con il latitante. Un passaggio della relazione di Frasca coglie il senso delle reazioni suscitate dall'arresto di Messina Danaro ma anche il pericolo di un facile trionfalismo. Scaldano il cuore, si legge nel documento, le manifestazioni di giubilo di quei cittadini che hanno espresso soddisfazione e apprezzamento per l'operato dei carabinieri, così come fanno ben sperare le iniziative soprattutto di giovani e bambini che esternando pubblicamente e gioiosamente la netta presa di distanza da Cosa Nostra ripongono consapevole speranza che anche queste operazioni contribuiscano ad arrivare alla verità sui misteri ancora non risolti del nostro paese. Raggiungere la verità, aggiunge il presidente Frasca, è un diritto dei familiari delle vittime e della comunità ed è un dovere delle istituzioni. Peraltro è triste constatare che accanto a queste manifestazioni che richiamano il fresco profumo di libertà di cui parlava Paolo Borsellino persistano ancora sacche più o meno ampie di indifferenze e disinteresse se non quando di dissenso che impongono di non indugere a facili e pericolosi trionfalismi. La inquietante rete di protezione a diversi livelli di cui ha beneficiato il latitante senza la quale non avrebbe potuto sottrarsi per così lungo tempo alla cattura pone, avverte il presidente della Corte d'Appello, seri interrogativi e apre scenari per certi versi inesplorati sul grado di penetrazione di Cosa Nostra nel tessuto sociale e istituzionale. Durante l'apertura dell'anno giudiziario si è parlato anche di legislazione antimafia italiana definita da Frasca, un modello anche per altri paesi consentendo di promuovere una lotta efficace a Cosa Nostra. Norme antimafia, aggiunto il presidente Frasca, frutto dell'impegno del sacrificio anche estremo di tanti esponenti delle istituzioni e che vanno mantenute in tutta la loro consistenza in ogni componente senza arretramenti di sorte e ancor meno senza indulgere alla pericolosa e miope convinzione di essere al traguardo ma l'Italia deve avere l'orgoglio e la forza di essere trainante per altri stati che si rivolgono a noi con ammirazione e interesse. Per il presidente della Corte d'Appello consolidare ed esportare oltre confine le risalenti acquisizioni normative in materia di contrasto alla mafia deve essere un impegno irrinunciabile nella consapevolezza che anche la criminalità organizzata ha varcato ai confini degli stati e si muove a livello tentacolare cercando di sfruttare contesti territoriali e extranazionali meno attrezzati del nostro. La strada è ancora molto lunga e impervia, soprattutto non può basarsi solo sulla repressione, sostiene il presidente Frasca su quella distaccata opera di repressione che Paolo Borsellino riteneva insufficiente. Per questo è importante se non decisiva la rimozione delle condizioni sociali ed economiche sulle quali prospera la criminalità organizzata di tipo mafioso e a questo processo di liberazione di crescita democratica devono concorrere la comunità e tutte le istituzioni con un'azione corale sinergica. Richiamando i moniti del presidente Mattarella, la Costituzione nostra a bussola, il presidente della Corte d'Appello sostiene che alla magistratura compete non solo l'accertamento dei reati ma anche la garanzia della effettività dei diritti iniziando da quelli sociali che trovano riconoscimento innanzitutto nella Costituzione. Non è mancato infine il riferimento al tema delle intercettazioni contro i mafiosi, ha detto Frasca, occorrono intercettazioni più efficaci. Come è noto hanno fatto discutere le parole del ministro Nordio per il quale i mafiosi non parlerebbero al telefono dei loro intenti criminali ma il presidente della Corte d'Appello ha risposto questo può essere vero solo con riferimento alle tradizionali forme di comunicazione telefonica e peraltro neanche in modo assoluto come dimostrato da alcune vicende processuali ma i criminali ricorrono a modalità sempre più sofisticate di comunicazione per intercettare le quali è indispensabile fare ricorso alla tecnologia la cui inevitabile invasività è bilanciata dai rigorosi limiti di ammissibilità di ricorso alle intercettazioni e dalle cautela imposta in diversi momenti dalla normativa vigente che probabilmente costituisce il punto di equilibrio più avanzato tra efficienza e garanzia.